È arrivato nella serata di ieri il sì dei lavoratori della Fondazione Arena di Verona il piano di risanamento del commissario Fuortes, dopo le assemblee che erano chiamate a dare il loro parere che a questo punto della vicenda, viste le premesse, l'out-out, era quasi scontato. Fondazione Salva, stacione estiva in arena che inizierà venerdì prossimo con Carmen e i lavoratori? Abbiamo dovuto fare un accordo su dei tempi molto stretti, con una minaccia grave sulla testa per cui con minor potere contrattuale rispetto alle nostre proposte partendo da un precedente accordo che purtroppo non era stato apprezzato che in qualche misura aveva il vantaggio tanto di farci guadagnare ulteriori tempo e di non scollarci dalla città, ma soprattutto era scattoscritto a quattro mani anche dal sindacato cosa che invece su questo accordo noi abbiamo potuto trovare delle correzioni ma non siamo riusciti a incidere come eravamo riusciti la volta scorsa. Tutto risolto dunque, manco a dirlo perché adesso arriva il bello ed anche perché non è mancato il giallo dell'ultima ora un allegato che nell'accordo fornito ai sindacati non c'era. Gli elementi di sostanza che abbiamo subito e non abbiamo agito ci sono tutti questa mattina abbiamo un problema, spero che sia solo di ordine tecnico, amministrativo e burocratico perché non corrispondono le documentazioni che ci sono consegnate. Al di là di questo noi abbiamo fatto ogni sacrificio oltre il dovuto per cercare di salvare questa fondazione. Dall'altra parte non abbiamo un piano di risanamento vero, un piano di rilancio vero un'idea sostanziale che questo gioiello della città possa continuare a esistere. Quindi se oggi noi mettiamo con grande sacrificio dei lavoratori in sicurezza la parte che ci compete siamo altrettanto decisi a chiedere che l'altra parte agisca nel migliore dei modi per rilanciare un gioiello dell'Europa. E chissà quali considerazioni faranno i turisti che hanno acquistato i biglietti della prima dell'arena dopo tutte le notizie sullo stato di salute dell'ente che hanno fatto il giro del mondo. Effettivamente questo accordo da un lato fa partire una serie di altri percorsi che saranno molto difficili. Certo è che questo ci permette di guardare il futuro. Non aver fatto questo accordo sicuramente non avevamo lo spirito ma soprattutto la disponibilità di affrontare il futuro. C'è una crisi generale delle fondazioni lirico-sinfoniche e c'è soprattutto un contesto culturale che sta trasformando l'arte e la cultura con le logiche di mercato. Se noi agiamo con le logiche di mercato è come se agissimo dicendo che la sanità se la paga solo chi soldi ce li ha e quindi che deve esserci un supporto pubblico per quello che noi consideriamo un bene comune e la cui fruibilità, accessibilità deve essere a tutta la comunità. Per questo non possiamo guardare al bilancio in sé ma dobbiamo guardare alla sua qualità e ai finanziamenti di una città. Vogliamo parlare di economia? L'arena che abbiamo alle spalle genera per la provincia di Verona 400 milioni di euro all'anno di indotto. Forse anche la città dovrebbe interrogarsi di questo pregio che ha.